Ottava giornata nazionale Fiocchetto Lilla, Ischia risponde ovviamente all'appello con l'associazione Artemisia Una Voce per l'Anoressia, con il professor Paolo Massa, presidente dell'associazione Raccontiamo tre giorni sull'isola di Ischia. Sì, in effetti quest'anno abbiamo concentrato in tre giorni l'attività, con l'apertura questa sera su questa conferenza sui disturbi del comportamento alimentare, come riconoscerli e come affrontarli e ci sarà insieme a me la dottoressa Aurino Alessandra dell'associazione L'Accoglienza del Girasole. Abbiamo invitato molto sia i dirigenti, istruttori, allenatori delle società sportive che poi domani saranno comunque impegnate in quella che è la giornata alla festa del Fiocchetto Sportivo. E quindi stasera si apre poi alle ore 20 la pedalata Lilla con Michele Scotto D'Abusco, gentilissimo, ci sarà anche un aperitivo lì da Cocogelo. Faremo questa pedalata per il comune di Ischia, un po' per dare l'apertura, un po' come l'apertura dei giochi. E poi domani ci sarà appunto la festa dello sportivo, si incomincerà dalle tre al palazzetto dello sport fino alle sette e mezza. Poi alle sette e mezza ci sarà la messa celebrata da Don Carlo Candido, poi ci sarà questa festa un po' per coinvolgere tutti i giovani, dove anche durante la festa cercheremo di dare dei messaggi informativi perché una delle cose che a noi interessa principalmente è fare informazione, fare cultura sui DCA perché uno dei problemi più grossi è che non c'è proprio la cultura di queste patologie. Domani mattina partirò presto perché alle 8.45 sarò a Fratta Maggiore in un corso di formazione per i pediatri. Non organizzato da noi ma noi siamo partner di questo corso dove io ho portato a questa organizzazione la dottoressa Gritti Antonella e la dottoressa Milena Salerno che sono delle neuropsicatri infantili a livello universitario dove faranno un corso di formazione per i pediatri dell'ASL 2 Napoli Nord. Da di Gnagno si precroce e la cosa più importante nei disturbi del comportamento alimentare come un po' tutte le malattie, però quella dei disturbi in particolare perché riusciamo ad anticipare moltissimo e non arrivare a delle cure estreme come il centro residenziale o il semi residenziale.